In the hands of mine, all and all, if anybody knows what we are looking for, show my girl, show my girl. Le principali hit dei Queen in versione sinfonica con una orchestra di ben 43 elementi. Questo l'ambizioso progetto che il Pescara Jazz nell'edizione del cinquantenario ha proposto sul palco del Teatro d'Annunzio, un vero e proprio show con attori e voci recitanti che hanno raccontato i drammi interiori di Freddie Mercury e riproposto tutta la forza dei suoi testi. Sul podio Roberto Molinelli, compositore di musica e telecinema e violinista, direttore per l'innovazione dell'Orchestra Sinfonica Rossini di Pesaro. Con spettacolari giochi di luce e la continua partecipazione del pubblico, il titolo Sinfonic Queen è stato più che mai meritato. Due ore di grandi performance musicali eseguite insieme all'Orchestra Sinfonica del Conservatorio d'Annunzio di Pescara e del contemporaneo vocal ensemble. Spicca in questo concerto l'attenzione che il festival ha riservato al suo territorio e alle principali realtà culturali ad esso collegate. Spicca in questo concerto di Pesaro